Marco Capezzuto, dal passato glorioso, da tante esperienze con Salernitana, Nocerina, Venezia, Sora, Venafro, l'ultima tua squadra, cosa ti ha spinto a partecipare, ad arrivare a questa squadra d'eccellenza che eravamo il turno? No, no, mi stavo allenando qui, mi sono allenato per circa un mese, poi ho trovato finalmente l'accordo con il presidente Di Meo, e quindi poi dopo, comunque qui è una società molto buona, molto seria e quindi ci sono stati tutti i presupposti per accettare. Un gruppo unito che può andare avanti, dove può arrivare questo regalo del turno grazie anche al tuo innesto? Oltre al mio innesto che è stato l'ultimo colpo di mercato, comunque la squadra è molto competitiva, ha fatto già bene prima, ma adesso stiamo attraversando un buon periodo, abbiamo fatto tre vittorie consecutive e cercheremo di vincere anche domenica con il derby contro il Gladiator. Indubbiamente adesso si punta ai play-off, secondo te qual è la squadra insieme al colturno che vi può dare filo da torcere? Le squadre sono molte, noi ce la giocheremo fino alla fine, il nostro obiettivo è rimanere la salvezza e quello che faremo di più sarà ancora più importante. Un messaggio ai tifosi per farli accorrere allo stadio la domenica, appunto per far capire che questa società e questa squadra punta a livelli alti? No, posso dire soltanto alla gente che può venire allo stadio per divertirsi, perché noi siamo una squadra che fa divertire, amiamo molto il calcio, sappiamo giocare bene al calcio, quindi cercheremo di farvi divertire, quindi venite numerosi allo stadio.